2 di febbraio alle 6 e mezza di sera ecco cosa vedono i turisti quando vengono a Tenerife si mettono in posti come questo ad ammirare il tramonto pure passeggiano così come sto facendo io questa sera qui a Las Americas con questo tramonto alle 6 e mezza si sta veramente bene ci sono ancora 24 gradi veramente se non avete voglia di passeggiare potete fare un aperitivo con questa vista amici beh che dire tanta roba no? qui siamo precisamente tra la playa di Troia e la playa del Bobo una zona che ha anche del verde con questo praticello qui la zona dove poter fare l'aperitivo con questa vista ed è veramente qualcosa di eccezionale video come questi che alle volte diventano virali sui social perché ci sono viste fantastiche è perché così in maniera trasparente vi facciamo vedere il bello ma anche il brutto vedete qua non è propriamente zona dove prendere il sole ma come vedete basta spostarsi un pochino per trovare subito la spiaggia e il tramonto qui è davvero eccezionale vi ho portato qui a fare questa passeggiata stasera perché voglio darvi un messaggio quindi ascoltate bene prima di darvi il messaggio passo di qui e vedo questi due ragazzi che stanno facendo praticamente un piccolo picnic con questo scenario che è veramente eccezionale cosa ne pensate? scrivetelo qui nei commenti il messaggio che voglio darvi è questo perché bisogna ancora oggi nel 2024 rivolgersi a agenzie viaggi ad esempio come la nostra per organizzare le vacanze piuttosto che fare tutto da soli motivi ve ne voglio dare almeno tre il primo motivo è che agenzie come la nostra che operano in loco e quindi qui direttamente nel nostro caso dalle isole Canarie e Tenerife conoscono perfettamente il posto il secondo motivo è perché realtà come la nostra che stanno sui social quotidianamente da sei anni non possono altro che essere sicure e garantite per tutti voi e l'ultimo motivo non meno importante è che possiamo avere prezzi vantaggiosi anche più bassi di booking e adesso vi spiego dove trovarli se non ci credete andate su google e cercate il sito www.inviaggioallecanarie.com e trovate le migliori offerte per hotel appart hotel e appartamenti qui alle isole Canarie tutte le offerte che trovate anche su booking o tutti gli altri portali un sito web totalmente garantito dalla nostra azienda dal nostro fornitore che è uno dei più grandi fornitori di tutta Spagna e ovviamente dalla certezza che un'azienda come la nostra che il 456 presenzia alla BIT di Milano sotto l'approvazione e il riconoscimento del turismo dei Tenerife non può altro che essere un'azienda seria e quindi confido in tutti voi che andate a cercare le migliori opportunità sul sito www.inviaggioallecanarie.com e se avete voglia di avere tutto servito potete contattarci e vi organizziamo noi volo, alloggio, automobili, escursioni tutto in un pacchetto senza pensieri e garantito dalla nostra agenzia viaggi ci vediamo al prossimo video buona serata ciao